Io sono Don Matteo, ho 33 anni, sono curato a Borgo Satollo da 7 anni e se devo raccontare un po' come è nata la vocazione e gli incontri che mi hanno un po' segnato di più, mi piacerebbe sintetizzarla in tre punti che sono tre momenti della mia vita. Il primo è il momento in cui mio papà si è ammalato e un secondo momento poi invece la figura di Don Fausto, un sacerdote che era il parroco al mio paese, Virle Tre Ponti e mi ha accompagnato negli anni dell'infanzia finché dopo non sono andato poi alle superiori e così avevo il desiderio proprio di dire mi piacerebbe diventare come lui. E al terzo aspetto poi una cosa un po' più recente, l'esperienza del dolore e della malattia che mia sorella con mio cognato hanno vissuto nei confronti del loro figlio, un figlio che è nato con una malformazione e quindi ha vissuto solo dieci minuti ma che loro pur sapendolo l'hanno portato avanti. Ecco quindi se devo pensare al bello del vivere è la vita di chi la vive davvero in ogni situazione, in ogni condizione, la sua esperienza. Quando riguardo un po' indietro la mia storia, la mia vocazione, vedo la bellezza di chi Dio, scegliendomi pur peccatore, mi ha amato così come sono, che ha saputo guardare oltre quei miei difetti che sono evidenti a tutti, ma che ha guardato appunto come un peccatore perdonato. La preghiera in questo senso è estremamente importante, soprattutto per scoprirsi in questa relazione, in questo perdono, in questo sguardo di amore, quello che dicevo prima, uno sguardo che guarda oltre, uno sguardo che non vede semplicemente i difetti, quei difetti che noi per prima ce ne accorgiamo di quali sono. Il rapporto con Dio, il legame con Lui ci aiuta davvero a rimanere dentro uno sguardo non giudicante. La vita è un po' questa, anche la vita di santità, la vita proprio vissuta è un po' questa. Noi respiriamo della vita di Dio, dell'amore di Dio, della sua presenza, della vicinanza delle persone. Noi lo respiriamo, ma a un certo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portarle all'esterno, dobbiamo condividerle, far sì che non diventino solo un arricchimento personale, un qualcosa di egoistico, un qualcosa incentrato sull'io, ma che diventi davvero aperto all'esterno, una vita che è condivisione con l'altro, una vita che è trasmessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.